Demolizioni e denunce, sembra il nuovo slogan dell'amministrazione di Santa Marina. Infatti sono state emesse, come già detto nei giorni scorsi, nuove ordinanze di abbattimento e per 105 TV è scattato un altro ordine di querela da parte dell'amministrazione Fortunato. Tra le recenti ordinanze di abbattimento contro le opere abusive e gli edifici pericolosi per la pubblica incolumità accertati dall'ufficio tecnico, ci sono provvedimenti destinati a strutture private e almeno uno che interessa una struttura di pubblica utilità. Si tratta del noto centro d'accoglienza per anziani e minori Le Rose. Il 3 maggio scorso l'ufficio tecnico comunale ha emesso l'ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di messe in sicurezza dello stato dei luoghi. A carico, si legge nel provvedimento, della ditta locataria signor Mario Bonavoglia, legale rappresentante della società cooperativa Multiservice Sud e della ditta proprietaria Diocesi di Teggiano Policastro. Nell'ordinanza vengono indicate le strutture da abbattere all'interno dell'area destinata agli anziani e in quella riservate ai minori, ritenute dai tecnici comunali prive delle necessarie autorizzazioni. Le due parti interessate hanno 60 giorni di tempo per presentare eventuale ricorso al tarre e 90 per eseguire l'ordine di demolizione emesso dal dirigente dell'ufficio tecnico. Se allo scadere Multiservice e Diocesi non avranno provveduto agli abbattimenti, procederà il comune in danno, un iter ben conosciuto a Santa Marina, dove gli ordini di demolizione sono divenuti negli ultimi anni motivi di innumerevoli contenziosi tra comune e cittadini. Proprio l'altro giorno a Santa Marina l'ente locale doveva procedere alla demolizione in danno dello storico Palazzo Polti, ma è stato bloccato da una delle proprietarie che si è incatenata in segno di protesta dal giudice monocratico del tarre che ha accolto il ricorso dei proprietari dell'immobile e da un'indagine dei carabinieri chiamati dagli eredi ad intervenire. Gli inquirenti hanno acquisito gli atti relativi alla vicenda e li hanno già trasferiti alla procura che dovrà stabilire se il palazzo deve essere abbattuto oppure no. Per il momento però attende la sentenza del tribunale amministrativo che entrerà nel merito il 7 giugno prossimo. Anche per questa vicenda il sindaco Dionigi Fortunato, come per quella relativa alle notizie sul blitz della finanza in municipio, ha dato mandato ai propri legali di presentare denuncia querela contro la nostra emittente 105 TV.